cari amici e cari amiche di ciclo web e della ciclibreria oggi una puntata veloce e tambureggiante parleremo anche di nuove generazioni anzi parleremo alle nuove generazioni quando il solo ti spacca in quattro come diceva il mitico dan peterson in un famoso spot non c'è niente di meglio che dedicarsi alla lettura a qualsiasi età ma partiamo dal libro del mese che è sempre e ancora donne in bicicletta scritto da antonella stellitano ed edito da ediciclo un libro che come vi ho detto nelle scorse settimane come vi ha anche detto l'autrice la settimana scorsa con il suo intervento parla del ciclismo femminile in italia in particolare traccia una storia che copre diversi decenni una storia in cui è possibile fare luce dare voce dare spazio finalmente a tante campionesse diciamo pure così campionesse del passato che magari non hanno avuto grande spazio nella bibliografia ciclistica e quindi come vi ho già detto un atto di giustizia un aneddoto molto bello mi ha raccontato l'autrice antonella stellitano quando ci siamo sentiti cioè che in una presentazione giuditta longari che la ciclista che appare nella copertina del libro aveva la sua maglia di campionessa italiana insomma di qualche decennio fa di lana una maglia vecchio stile old style e c'era Elena Cecchini che è stata la campionessa italiana recentemente e parlavano le due atlete di generazioni diverse appunto delle differenze tra queste tra queste maglie e la brava e simpatica Elena Cecchini ha avuto poi la grazia perché diversamente non si può definire di mandare a giuditta longari una sua maglia da campionessa italiana omaggiando così la la sua la sua antenata in bicicletta se possiamo definirla così e quindi un piccolo una piccola storia che ci che ci dice quanto comunque nel ciclismo femminile ci sia una vicinanza anche intergenerazionale e e niente mi andava di raccontarvelo perché antonella stellitano non l'aveva fatto nel suo intervento della settimana scorsa così a condire con qualche così tratteggio ancora una volta la presentazione che vi faccio di donne in bicicletta nostro libro del mese che continuerà ad accompagnarci ancora per qualche giorno se lo ordinate vi beccate il portachiavi ufficiale di ciclo web esclusivissimo e soprattutto vi beccate oltre 400 pagine di sana lettura dedicata al ciclismo femminile insomma pagine quanto mai necessaria vi dicevo che avremmo parlato alle nuove generazioni e lo facciamo e lo faccio presentandovi una collana l'intera collana sono cinque titoli sempre diei di ciclo la collana si chiama dream con tre i e tanto di punto esclamativo alla fine quindi dream diciamola meglio è presente raccoglie alcuni libri dedicati appunto all'infanzia ai bambini o ai ragazzi il primo titolo di questa collana è caterina controvento scritto da alfredo stop che è anche il curatore della collana e questo è un romanzo dedicato ai giovanissimi e giovani insomma ai ragazzi racconta la storia di questa bambina avventurosa questa ragazzina sempre abituata a fare di testa propria ad andare appunto controvento una bastian contraria viene definita l'ambientazione negli anni della prima guerra mondiale caterina vede una bicicletta che è abbandonata in un prato in una villa disabitata o temporaneamente disabitata e insomma sogna di prendersi questa bicicletta per vivere le sue avventure appunto nel periodo finale della prima guerra mondiale un libro molto grazioso e delicato e poi passiamo alla seconda al secondo titolo della collana e qui cambiamo genere nel senso che l'età si abbassa l'età dei fruitori pietro formentini una bici spaziale con illustrazioni di antonio boffa e questo e i due libri successivi sono dei libri orizzontali come possiamo come posso dire di formato e raccontano delle storie dedicate proprio rivolte proprio ai bambini che hanno appena iniziato a leggere magari storie avventurose fantasiose in questo in questo in particolare il pianeta terra viene visto dall'alto dal pianeta null 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 da un da un alieno che si chiama pix e che vede queste persone sempre in movimento su questi strani mezzi queste macchine animali così vengono definite che sono poi le biciclette e va bene dopo vi leggerò un passaggio di questo bel libro una bici spaziale sempre in campo il tema di bici la bicicletta rossa il terzo titolo della collana dream guido quarzo dell'autore illustrazione di chiara balsarotti questa è la storia di una bambina elisa che sogna di avere un regalo al suo per il suo compleanno e tra i vari regali che immagino alla fine decide di avere di volere una bicicletta rossa con cui fare il giro del mondo andare al polo sud in cina o in africa salvo poi scoprire che forse va bene non vi anticipo lo scoprirete leggendo questo bellissimo libro quarto volume della collana i mostri d'aria chi comanda la natura scritto da mario ferraguti e disegnato da giacomo annetti hanno detto forse che le illustrazioni la bicicletta rossa sono di chiara balsarotti quelle di una bici spaziale di antonio boffa vanno citati e come gli autori dei disegni dicevo i mostri d'aria chi comanda la natura e qui si immagina l'esistenza di questi mostri invisibili ma visibili attraverso degli occhiali speciali con lenti magiche che praticamente comandano tutte le varie funzioni che noi vediamo in natura le onde l'eco che ne so le nuvole i fulmini dietro a tutti questi eventi atmosferici e non solo della natura ci sono questi mostri invisibili e misteriosi che scoprirete leggendo il libro scoprirete voi e i vostri bambini leggendo il libro i mostri d'aria e infine un libro molto particolare l'ultimo della collana alfonsina e il circo scritto da fernanda pessolano e qui chiudiamo il cerchio visto che parliamo da diverse settimane di ciclismo femminile chiudiamo il cerchio perché alfonsina di cui si parla è proprio alfonsina strada la celebre leggendaria alfonsina strada che si tiene al circo una volta abbandonato il ciclismo e questo è un è un libro active book se non ricordo male la definizione perché perché praticamente si si devono ritagliare delle parti si deve costruire un teatro di carta ci sono tutti questi personaggi da ricostruire con i testi della per solano e c'è anche un intervento storico di marco pastonesi è un libro molto particolare dal gusto retro che però può essere un regalo intrigante per i bambini se volete insomma omaggiarli alfonsina e il circo fernanda pessolano e chiudiamo con questo questa allegra carrellata di volumi dedicati all'infanzia veniamo accolti in casa di px uno dei tanti bambini abitatori di questo pianeta lo troviamo seduto incantato davanti a un potente visore che dalla terra riceve in diretta nitidissime immagini video e audio meravigliato e sorpreso px sta in questo momento osservando una strana macchinetta animale terrestre una specie di cavalluccio px già lo sa cos'è un cavalluccio come viene chiamato laggiù sulla terra quell'essere strano che si muove al galoppo sulle sue quattro zampe quello che px sta in questo momento ammirando al posto di quattro zampe ha invece due ruote la macchinetta animale che non è l'unica e sola ce n'è più d'una muoversi a correre avanza dinamica leggera e agile lungo un percorso fatto di strade e così che laggiù sulla terra i terrestri le chiamano sono anche stradine e viali e vialetti molto diversi da ciò che c'è invece sopra null null dove di strade e stradine e viali e vialetti e percorsi tracciati e vie e sentieri px non ne ha visti mai non ne ha mai sentito parlare qua su null null queste cose non esistono proprio nell'extraspazio ci sono soltanto vaste estensioni indefinite che non hanno i bordi non hanno i margini non hanno le rive le siepi non hanno i cordoli non hanno i guardrail chi è il px di cui narra questo racconto mi fermo qui e vi lascio la curiosità di leggere una bici spaziale libro scritto da pietro formentini con l'illustrazione di antonio boffa edito dai di ciclo editore